Missione Perù alla ricerca del gigante perduto è stato il tema della serata organizzata nei giorni scorsi dai geologi dell'Università di Camerino per presentare le ricerche paleontologiche nel deserto d'Ica, un'estesarea costiera a sud di Lima dove affiorano sedimenti marini e continentali che coprono 40 milioni di anni. Eccezionali fossili rinvenuti tra cui il famoso Perucetus colossus, un antenato delle balene e dei delfini caratterizzato da ossa grandissime e pesantissime che fanno pensare a un mostro marino dalle proporzioni titaniche. I professori Claudio di Celma e Pietro Paolo Pierantoni hanno prima illustrato i dieci anni di ricerche geopaleontologiche nel deserto d'Ica alle quali hanno partecipato presentando il documentario girato in Perù e realizzato dal giornalista Luigi Bignami. La serata è poi proseguita con la visione della prima puntata del documentario in onda sul canale televisivo Focus.